questo progetto parla di una realtà ci sono persone che non hanno davvero magari anche speranza non lo posso sapere ed è il motivo per cui andiamo a intervistarle io ogni tanto penso e dico ma quando è che Dio mi aiuta e quando c'è i soldi va il suo milano di vedi sdraiati sotto i portici c'è la poverina che vita ti chiamo il barbono che barboni non dici soltanto barboni non è una parola da dire barbone qual è la prima cosa che chiederesti insensatezza grazie